Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa al fenomeno dell'effetto di prossimità e l'obiettivo di questo video sarà quello di riuscire ad ottenere un'equazione con il quale saremo in grado di prevedere e quantificare le perdite imputabili a questo fenomeno. Però andiamo con ordine, cerchiamo prima di capire che cos'è questo fenomeno e come mai si manifesta. Ho riportato qui sul foglio quattro casi di filo percorso da corrente e adesso andremo a fare delle piccole osservazioni. Partiamo dalla figura in alto a sinistra, ovvero siamo nel caso in cui nel filo scorre una corrente continua. Quello che possiamo vedere tagliando una sezione ortogonale al filo è che la densità di corrente, questo grafico, questo rettangolino che ho riportato qui in alto è parallelo alla sezione del filo, e che viene indicato con la lettera J, si mantiene costante lungo la lunghezza del diametro. Quindi, in parole povere, la densità di corrente nel filo è omogenea. Ora supponiamo un secondo caso, ovvero, come possiamo vedere nella figura in alto a destra, abbiamo sempre un filo in cui scorre una corrente continua, però in questo caso questo filo si trova immesso in un campo magnetico di valore B. Se noi adesso andassimo a rappresentare nel grafico di prima come si distribuisce la densità di corrente lungo il diametro del filo, noteremmo che nel caso in cui il verso della corrente è uscente dal foglio, la densità si distribuirà in questo modo, ovvero sarà più bassa da questa parte del filo, mentre sarà più alta da quest'altra parte del filo. E come mai succede questa cosa? Succede perché la corrente altro non è che elettroni in moto. E che cosa succede a un elettrone che si muove all'interno di un campo magnetico? Beh sarà soggetto alla forza di Lorenz. E quindi in pratica quello che avviene è che gli elettroni che stanno scorrendo all'interno del filo subiscono una forza che li spinge verso questo lato e quindi di conseguenza avremo che la densità di corrente sarà maggiore in questa parte rispetto a quest'altra dove risulterà minore. Adesso capito quello che succede in corrente continua andiamo a vedere l'analogo in corrente alternata. Quindi ho riportato in questa figura in basso a sinistra il caso in cui il conduttore è attraversato da una corrente variabile. Adesso ricordando quello che abbiamo visto nei video precedenti sappiamo che in questo caso c'è l'effetto pelle che in pratica fa sì che la densità di corrente sia maggiore all'esterno del conduttore e man mano diminuisce andando verso l'interno fino al punto in cui diventa 0 quando il valore del diametro eguaglia la profondità di pelle. Quindi fin qui tutto semplice perché questo caso lo abbiamo già visto. Adesso però andiamo a vedere quello che succede quando un conduttore che viene attraversato da una corrente variabile viene immesso in un campo magnetico di valore B. Supponendo anche in questo caso che siamo nel frangente in cui la corrente è uscente dal foglio, quello che possiamo vedere nel grafico di distribuzione della densità di corrente è che sarà sempre presente il fenomeno dell'effetto pelle, ma l'esterno del conduttore di questa parte avrà una densità molto minore rispetto all'esterno del conduttore di quest'altra parte. Quindi anche in questo caso abbiamo che la forza di Lorentz spinge gli elettroni della corrente verso la parte destra del conduttore e quindi conseguentemente risulterà avere una densità maggiore di corrente in questa parte rispetto a quest'altra. Ora se a questo punto è tutto chiaro si è perfettamente capito che cos'è l'effetto di prossimità. Solo che adesso sorge una domanda, perché l'avvolgimento di un induttore dovrebbe essere soggetto a questo fenomeno? In quale campo magnetico viene immerso questo avvolgimento? Per rispondere a queste domande aiutiamoci osservando la seguente immagine. Supponiamo di rappresentare la parte centrale del nucleo di un induttore in cui sono avvolti cinque strati di avvolgimento. Come sappiamo da teoria abbiamo che il campo magnetico generato da questi cinque strati di avvolgimento sarà confinato solo all'interno del nucleo. Mentre per quanto riguarda il campo magnetico all'esterno degli avvolgimenti sappiamo anch'esso da teoria che questo è perfettamente pari a zero. Ora però ci chiediamo come si comporta il campo magnetico compreso fra l'esterno del nucleo e l'esterno dell'avvolgimento? La risposta a questa domanda si trova nell'immagine sottostante. Quindi indichiamo con BW l'altezza dell'avvolgimento mentre con H1, H2 fino ad arrivare ad H6 il campo magnetico fino all'esterno del nucleo magnetico. E che cosa osserviamo? Osserviamo che come detto prima il campo magnetico H1 che sarebbe quello all'esterno dell'avvolgimento risulta essere pari a zero. Però quando scendiamo verso l'interno dell'avvolgimento succede che questo campo non è più zero ma inizia ad aumentare. Perché questa cosa? perché mentre all'esterno del primo strato non c'è nulla, all'esterno del secondo strato c'è il primo strato che va a generare un campo magnetico verso l'interno. E quindi quando vale il valore di campo magnetico generato dal primo strato, quindi H2. Banalmente, utilizzando la formula classica di solenoide avvolto in aria, abbiamo che questo sarà proporzionale al numero di spire del primo strato per la corrente che scorre nell'avvolgimento diviso l'altezza dell'avvolgimento, moltiplicato soltanto per la permeabilità magnetica del vuoto e per la permeabilità magnetica relativa dell'aria, ovvero 1. Adesso continuiamo a scendere negli avvolgimenti ed arriviamo ad H3. Che cosa succede qui? Quando vale il valore di H3? Come nel caso precedente, utilizziamo la formula del campo magnetico del solenoide avvolto in aria e questa volta però abbiamo che il numero di giri è aumentato perché lo strato 3 vedrà la somma del numero di giri del primo strato più la somma del numero di giri del secondo strato e quindi il valore di H3 sarà maggiore del valore di H2. Continuando a scendere nell'avvolgimento il discorso si ripete, quindi per calcolare H4 dovremmo fare la somma dei primi tre strati e quindi risulterà H4 maggiore di H3 fino all'ultimo strato dove quello che vedrà all'esterno sarà la somma di tutti gli altri avvolgimenti e quindi il campo magnetico che agisce sullo strato più interno sarà maggiore rispetto a quello di tutti gli altri e quindi adesso abbiamo capito come mai questi avvolgimenti dell'induttore sono soggetti a questi campi magnetici e quindi come abbiamo visto in precedenza abbiamo che man mano che scendiamo con gli strati andando verso il centro dell'avvolgimento otteniamo che le densità di corrente saranno sempre più squilibrate a causa del fatto proprio che l'intensità del campo magnetico aumenta andando verso l'interno. Per avere un'idea di questo fenomeno sopra la prima figura viene riportato un grafico di densità di corrente relativa. E cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che se per esempio nel primo strato il picco di densità di corrente all'esterno del conduttore era uguale a 1, nel quinto strato il picco di densità di corrente all'esterno del conduttore è pari a 5. E questo cosa provoca? Provoca appunto un aumento delle perdite. Perché? Perché procedendo verso l'interno dell'avvolgimento abbiamo che la sezione per il passaggio di corrente diminuisce e la densità si fa sempre più alta. Quindi ricordando la formula della potenza persa per via resistiva che è uguale alla resistenza del filo per la corrente rms al quadrato abbiamo al punto che nello strato più interno ci saranno picchi di corrente rms molto più alta rispetto allo strato esterno e quindi le perdite per via resistiva dello strato interno saranno molto molto più alte. Molto bene, adesso che abbiamo capito bene il fenomeno passiamo alle formule per quantificare le perdite. L'equazione più usata e conosciuta per questo argomento è quella di Dowell che in pratica mette in relazione la resistenza AC con la resistenza DC attraverso un fattore moltiplicativo il cui valore viene calcolato attraverso questa equazione in cui sono presenti soltanto due incognite ovvero M e delta. Quindi anche gli altri due valori come v2 e v3 si calcolano facilmente dopo aver calcolato il valore di delta che in pratica indica il rapporto di penetrazione mentre M è semplicemente il numero di strati dell'avvolgimento quindi nel caso precedente M era uguale a 5. Mentre per quanto riguarda il rapporto di penetrazione adesso andiamo a vedere come si calcola. Per il calcolo del rapporto di penetrazione andiamo a utilizzare la seguente formula quindi sarà uguale alla radice quadrata della porosità moltiplicato per DW diviso la profondità di pelle che abbiamo visto come si calcola nel precedente video dedicato appunto all'effetto pelle. Mentre per quanto riguarda DW questo rappresenta il valore di un diametro equivalente infatti si fa finta che la sezione del filo sia quella di un quadrato questo perché originariamente l'equazione di Dowell era stata ricavata per conduttori a sezione quadrata. Mentre per quanto riguarda la porosità beh è facile capire già dal nome che si riferisce a quando è fitto uno strato di avvolgimento. Quindi D piccolo rappresenta il diametro del conduttore di rame mentre D grande rappresenta il diametro del conduttore di rame più l'isolamento del filo. Mentre per quanto riguarda pi greco quarti beh questo tiene in considerazione il fatto che ovviamente andando da avvolgere resta dello spazio vuoto fra i vari conduttori. Quindi una volta ricavati tutti questi valori siamo in grado di andare a calcolare il valore di delta e quindi di andare a risolvere quella equazione. Ora per avere un'idea per quantificare di quanto vale questo rapporto fra la resistenza AC e la resistenza DC faccio vedere questo grafico normalizzato. Quindi in ascisse troviamo in scala logaritmica il rapporto fra altezza dello strato dell'avvolgimento diviso la profondità di penetrazione. Per una maggiore chiarezza espositiva è stato supposto la porosità uguale a 1 e che l'altezza dello strato dell'avvolgimento coincide con il diametro del conduttore. Mentre in ordinate abbiamo il rapporto fra la resistenza AC e la resistenza DC anche questa espressa in scala logaritmica. Ora andiamo a vedere quali sono gli aspetti più importanti di questo grafico. Partiamo dal caso in cui il nostro induttore è composto da un solo strato quindi siamo su questa curva. Quello che succede è che quando questo rapporto è minore dell'unità abbiamo che la resistenza AC è perfettamente uguale alla resistenza DC. Mentre quando siamo al di sopra del valore unitario abbiamo che il valore di resistenza AC aumenta in modo lineare rispetto al valore di resistenza DC. Ma questa curva noi l'avevamo già vista in un altro grafico ovvero riprendendo il grafico dello scorso video sull'effetto pelle possiamo vedere che è praticamente uguale a questa qui. E questo ovviamente torna con tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Infatti essendoci solo uno strato abbiamo che non c'è nessun campo magnetico all'esterno dell'avvolgimento che agisce sull'avvolgimento stesso e quindi in pratica la resistenza AC sarà soltanto pari alle perdite per effetto pelle. Quando invece il numero di strati inizia ad aumentare le cose cambiano in modo significativo. Infatti oltre alla resistenza dovuta all'effetto pelle abbiamo che si inizia a sommare la resistenza dovuta all'effetto di prossimità. E quindi supponendo l'esempio che abbiamo visto in precedenza ovvero quello con 5 strati abbiamo che superato il valore dell'unità di questo rapporto la resistenza AC aumenta in modo vertiginoso arrivando a toccare valori di 10, 20, 30 volte superiori. Superato il valore di 5 strati possiamo vedere che il rapporto tra resistenza AC e DC aumenta in modo vertiginoso. Quindi nella pratica non si troveranno mai degli induttori con un così elevato numero di strati proprio perché a causa di questo elevatissimo valore in pratica diventerebbero incandescenti. Molto bene! Quindi siamo riusciti a capire come utilizzare questa equazione per ricavare il valore di resistenza AC e quindi saremo in grado di prevedere le perdite dell'induttore dovute a questo fenomeno nel modello che si sta realizzando. Molto bene allora! Per questo video è tutto! Alla prossima!